Avete avuto ritardi? Sì, sì. Abbiamo preso il treno delle 7.35 da Campo San Piero. Siete arrivate? Alle 10 adesso, appena arrivate. Per andare da Venezia Mestre a Padova lì è un disastro. Proprio 190 minuti minimo di ritardo con tutti i treni. Ci sono diversi ritardi, fino a 200 minuti. Mestre non parte più niente, praticamente. Ho preso uno che partiva anche quello 40 minuti di ritardo. I disagi sono partiti poco prima dell'alba, quando la pioggia della giornata di domenica e l'abbassamento delle temperature hanno causato la formazione di ghiaccio e conseguenti disagi lungo le vie ferroviarie della regione. Particolarmente critica la situazione lungo la tratta tra Campo Marte a Padova e Rovigo e lungo la tratta tra Vicenza e Venezia. Ritardi che hanno toccato punte di 120 minuti e coinvogli in viaggio con ritardi fino a 4 ore. Nel caos gli spostamenti dei pendolari. A Padova per ore è rimasto fermo a Campo Marte un treno regionale con 600 persone a bordo. Ad Abano Terme fermo intorno alle 8.30 un intercity diretto a Trieste in arrivo da Roma. Il treno regionale 16.7.32 di Trenitalia e le ore 9.13 provvediente da Venezia Maestre e diretto a Degnano arriverà in ritardo per i suoi 70 minuti. Ecco lo vedete, le persone sono assiepate davanti ai cartelloni per cercare di capire quando riusciranno a prendere il treno. Il ghiaccio e il freddo di questa notte hanno bloccato le ferrovie del nord-est. Dopo le 10 il traffico ferroviario è ripreso circolare in modo normale con gradualità. È rimasta fortemente in difficoltà per interventi tecnici la linea regionale da Padova a Calalzo. Che la temperatura fosse rigida in queste ore lo conferma la schermata di Arpav relativa alle 9 di quest'oggi. Una mattinata di passione che ha creato disagi e insofferenza tra cittadini increduli che il ghiaccio, ampiamente previsto da giorni, potesse originare situazioni simili. Spero di trovarlo, ecco diciamo così.